Ci sono ritratti della figlia in vari momenti della giornata, ma anche le mani di un uomo che si aggrappano ad un filo spinato che simboleggia la vita. Momenti forti e momenti sereni della quotidianità si alternano nelle tele dell'architetto e pittore Guglielmo Acciaro, esposte fino all'8 maggio all'interno del complesso monumentale di San Giorgio dei Genovesi. Questa mostra si sviluppa esattamente in due momenti. Ci sono dei quadri esposti nella cripta di circa 20 anni fa, sono stati realizzati su tela e in tempera grassa, mentre la parte superiore sono delle tavole o delle carte gessate, grafite, cioè significa che praticamente nell'arco della mia crescita artistica ho cercato di essenzializzare, di rendere più puro il segno rispetto ai quadri di 20 anni fa. Cosa esprimono questi quadri? Esprimono semplicemente, sono molto semplici, cioè sono dei quadri che io definisco democratici, cioè nel senso rispetto alla cultura contemporanea che è complessa, è più concettuale, più intellettuale, difficile alla comprensione dei molti ed è più, invece è comprensibile ai pochi. I miei quadri sono assolutamente diretti, comprensibili ai molti, più democratici come li definisco io. Lei si definisce di più un artista architetto o un architetto artista? Per me è la stessa identica cosa, nel senso sono io, come dire Aciaro Guvielmo o Guvielma Aciaro, poi nella sostanza sono sempre io.